Amici di Twitch, buonasera a tutti, buonasera. Ciao! Che inizio di settimana frizzante, cioè era meglio, era meglio averlo senza vedere spanchi, diciamo la verità, quanto eravamo stati bene quel periodo in cui tu hai fatto albero 4 in quel teatro, in quel... No, non è vero, ho fatto una parte molto importante. Avete notato questa cosa? Comunque quel periodo, la settimana scorsa. Quel periodo che a me è sembrato in eternità, ma perché stavo talmente bene che volevo non finisse mai. Spanchi, avete notato questa cosa? Ha fatto tipo albero 5, una cosa del genere, e addirittura se voi vedete il manifesto, diciamo, dello spettacolo teatrale, ci sono in ordine di apparizione tutti i nomi ultimissima, in fondo, Giulia, cioè spanchi. E questo non vuol dire che sto a meno degli altri. Tu sei quella cosa, no, che quando vedi la pubblicità poi va velocissima in un secondo e mezzo, ecco, tu sei quello. Sì, sì, capito. Comunque no. Sì, non ha fatto nemmeno albero 4, ha fatto tipo ramoscello 8. Non è vero, ragazzi. Vedo nemmeno l'albero, proprio ramoscello. Non mi siete venuti a vedere, quindi non lo potete sapere. Ripeto, spanchi. Una che mi dice, mi viene a vedere a teatro, ti faccio ridotto, parte male, devi dire, mi viene a vedere a teatro, non ti faccio pagagnino. Niente, anzi, te pago io perché sei una persona importante. Ecco, era quello. Ah, così avrei tu. Vabbè, la prossima volta... Certo, non si fa così, non si fa così. Comunque, bando alle ciance e benvenuti in questo nostro episodio di Live Talks numero 236. Che cos'è Live Talks? È il nostro format di punta che va ad invitare quelle che sono le eccellenze all'interno dei vari ambiti della cultura pop. Quindi parliamo di recitazione, doppiaggio, gaming, creazione di contenuti, musica, WFX, regia, scrittura. Veramente tante cose, tante, tante belle cose. E questa sera siamo molto felici di avere con noi Tito Marted. Tito, grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao ragazzi, ciao a tutti, ciao a tutti i ragazzi della chat. Grazie per l'invito a voi. Figurati, per noi è un grande piacere, però prima di passare alla nostra bella chiacchierata andiamo a sbrigare quelle che sono le formalità di rito. Quindi il saluto ai nostri moderatori, che sono la polizia del canale, coloro che prima vi sospendono e poi vi bannano se non siete, diciamo, carini e coccolosi. Potete anche essere... Educati, basta. Esatto, potete pensarla diversamente da noi, però dovete essere comunque carini e coccolosi perché la nostra community deve essere così, come i pinguini di Madagascar. Poi andiamo anche a salutare i nostri irriducibili al canale, ossia i nostri vips, che sono Jackie Jack, questi sono i mod, oggi sono incoglienti. Sono il grandissimo Mr. Lannister, il sempreverde Tommy Rolando e Simona, Simona Otta, Simona non c'è epiteti perché è così. Ma pure Simona ti scriverai, però io non ho l'aggettivo, lo voglio anche io. Esatto, The Woman può essere. Un saluto anche a tutti gli altri che ci stanno guardando. Ciao a tutti gli altri. In due secondi Spanky ci devi dire i comandi chat, così possiamo iniziare. No, ma io ho tantissimo che non li dico, però non li ricordo. C'è un motivo che gli dirai e sarai, farai meno schifo del solito secondo me. Poi Tito ti darà un voto, sapendo Tito che lei sta studiando doppiaggio. Quindi se fa schifo c'è anche l'aggravante in questa gara. Mi hai messo l'ansia. L'ho fatto apposta, Spanky, 3, 2, 1. Putto esclamativo Telegram, momenti meme e programmazioni. Putto esclamativo Sub, dai 3,99 euro al mese in su. Gratis, completamente gratis. Se avete Amazon Prime, saltate la pubblicità, recuperate i VOD, usate le nostre emoticon personalizzate ed entrate nel nostro gruppo privatissimo di Telegram dove ci siamo noi che scriviamo e anche alcuni ex ospiti. Putto esclamativo Ospite. Quest'oggi Instagram, immagino del nostro Tito. Mi raccomando, seguitelo in tanti, ma non stalkeratelo. Putto esclamativo Website, il nostro fantastico sito. Putto esclamativo Partners, i nostri fantastici partners. E basta. No, punto esclamativo Quote, pesca una frase storica detta da noi o dai nostri ospiti che volenti o non volenti è rimasta lì nell'epicità del programma. Chissà se questa sera ne uscirà qualcuna di nuovo. Chi lo sa. Fine. Direi che è andata bene. Direi che è andata bene. Dici che è andata bene. Sì, non lo rego. Quattro e mezzo gli hanno dato in chat. Ammazza. Quattro e mezzo? No, no, no. Quattro e mezzo su dieci. Non ci hai provato. Hanno dato proprio quattro e mezzo. E infatti anche... C'avevo sperato, ministro. Attenzione, Felice, poteva farlo meglio. Le do tre. Su? Tre su dieci. Su dieci. Ah, sempre su dieci. Ma scusa, come all'università, in quindicesimo. Vabbè, ragazzi. Te sei scordata un comando chat. Hai fatto un casino. Te sei impappinata. Ma io bado di più. Non me la sono scordata. Quasi scordata. Quasi scordata. Comunque Tito è stato gentile. Ha detto che sia andata bene. Grazie a te. Sì, secondo me è andata bene. Ok, quindi non le dai tre o quattro e mezzo. No. Non le dai tre o quattro e mezzo. Il voto sarebbe. No, no. Le chiamo dieci, dai. Dieci. Dieci. Beccate questa. Devo dire che non ho mai sentito nessuno di voi fare queste cose. Quindi nel senso... Ah, ok. Ma te sei perso nulla, guarda. Vabbè, quindi dici, vabbè, siccome è la prima che ascolto prende... Esatto, dieci, va benissimo, dieci. Va bene, dieci su trenta, come gli esami all'università, giusto? No, sì, come gli esami. Bevi il tuo cognac. Sì, è gin travestito da acqua questo. Buonasera, Matteo Lobb. Salve Giulia, quanto siete belli. Siete belli. Ah, attenzione perché Felice dice, io le do tre su cento proprio, quindi hai preso un voto pessimo. Un voto pessimo. Un voto pessimo. Comunque, Tito, eccoci a noi. Guarda, noi non abbiamo nulla di preparato perché ci piace vedere un po' dove la nostra conversazione ci porterà. Abbiamo solamente una domanda iniziale che è uguale per tutti, quindi ti vado a porre per la 236esima volta, però lo faccio con un piccolo preambolo che è un po' inutile, però piace la chat, quindi lo faccio ugualmente. Quasi invisibile. Il preambolo è questo, noi magari ci svegliamo la mattina, un giorno qualsiasi, usciamo di casa e incontriamo, che ne so, dieci persone. E in base a come ci poniamo con loro, magari con qualcuno scorbutico, con alcun altro siamo simpatici e così via, queste dieci persone avranno dieci immagini diverse di come noi siamo, no? Che due che la pensano allo stesso modo è impossibile. No, è impossibile, è impossibile. Dieci persone. Però dal nostro punto di vista è interessante vedere come il nostro ospite vede se stesso. Quindi io ti andrei a chiedere chi è Tito, non tanto dal punto di vista professionale, perché poi ne andremo a parlare, quanto proprio dal tuo punto di vista, per quel che riguarda aspetti caratteriali, passioni ed hobby, che magari esulano quello che è l'aspetto prettamente lavorativo. Ok, allora, come mi vedo? Nel senso, sicuramente una persona molto attiva? Che si dà molto da fare, perché insomma faccio doppiaggio da quando ho 5-6 anni e ho sempre fatto sport a livello agonistico. Ora faccio solo atletica, ma prima c'erano anche pentathlon, che erano i 5 sport, insomma, e anche calcio. Quindi mi sono sempre dato da fare e quindi probabilmente questo sicuramente dall'esterno si potrebbe capire. E poi io mi vedo un po' come una persona generosa, però certo che mi vedo dall'esterno non lo può sapere. Onesta, sincera. Un po' egocentrica, però purtroppo. Quel tanto che basta. Quello di giusto. Sì, ma dai, gli attori si sa che sono sempre un pochino egocentrici, quindi, insomma, e poi niente, non lo so. Sei egocentrico a che livello? Cioè, tipo che come vedi uno specchio, tu ti fermi, ti guardi e dici, oddio, quanto sono bello. No, non proprio a questo livello, però mi piace stare là davanti. Uno ogni due? Sì, esatto, uno ogni due. Contiamo anche i finestrini della macchina, con gli oscurati. Anche le vetrine dei negozi, perché le vetrine dei negozi è una forte tentazione. Tutte le superfici riflettenti facciamo. Esatto. Sì, piano piano stavamo andando su quella strada. Ne troviamo altre. La pozzanghera d'acqua. Esatto. Con Arciso. Era, sì, era proprio capito il crescendo del trash della cosa. Grazie Spanchi per aver rovinato questo gioco, insomma, vabbè. È vero, è vero. Ma a proposito, io sono molto curioso riguardo all'attività, all'iperattività. Hai detto che hai fatto tanti sport, no? Immagino anche in contemporanea, giusto? Oppure rifacere in momenti? No, no, anche in contemporanea, anche perché il pari è una... Lo facevo quando ero piccolo, cioè l'ho fatto dai 7 ai 13 anni. Magari un giorno facevo sia corsa che nuoto e magari andavo a giocare anche a calcio. Oppure facevo corsa e scherma, calcio e corsa, dipendeva. Però ho sempre fatto, insomma, sempre più sport. Invece adesso mi sono un po' più adattato sull'atletica, anche perché, insomma, il lavoro è un po' più pesante e non c'è così tanto tempo per dedicare, purtroppo, al tempo. Però all'atletica ci sto provando, anche se non è molto semplice per stare sempre a ritmi molto alti, ecco. Eh, ci credo, ci credo. Allora, mi dicono che siamo di nuovo in asinc... Oh, oggi Streamlabs sta dal meglio di sé, Streamyard sta dal meglio di sé. Eh, sì, diamo la colpa a Streamlabs. Eh, certo, è che è colpa mia. Allora, un secondo che ritorno. Eh, tocca fa così. Quando il programma Streamyard, che noi paghiamo, tra l'altro, ci va andando in asincrono, io devo fare questa cosa. Allora, eccomi qua. Nel frattempo ho fatto un'invettiva contro Streamyard. Ho detto, il programma che tra l'altro noi paghiamo, perché ricordiamo che lo paghiamo, e ogni tre per due va in asincrono. Adesso siamo ritornati normali. Quindi la curiosità a Tito era questa, no? Ma facendo tante cose in contemporanea, anche a buon livello, non c'è il rischio, mi sono sempre chiesto, perché io sono uno che deve fare una cosa per volta, non c'è il rischio che poi non riesci a fare bene tutto, ma riesci sempre a fare magari un buon livello senza eccellere in nulla? Certo, questa è una bella domanda. Allora, io penso che, siccome comunque sono tutte cose che mi piacciono, mi piacciono fare. E nel momento in cui mi piacciono, io cerco sempre di dare il meglio di me stesso, sia per quanto riguarda il doppiaggio, sia per quanto riguarda l'atletica, sia per quanto magari prima riguardava il tempo. Quindi, quindi, piacendomi e avendo voglia di farle, forse riesco, esatto, mi ha passione, e quindi riesco ad andare in meglio di me. Ah, ok, ok, vedi, quindi il fulcro, il segreto di tutto è comunque la passione, il fatto di fare qualcosa che ti piace tanto. Certo, sì. Figo, figo, vedi, non come noi che riusciamo. Penso che se la vivi, insomma, se la vivi bene, ti piacerà per forza, insomma. Cioè, vivendola bene, poi, è tutto più bello, tutto positivo. Se la vedi positivamente, ma anche la vita, se vogliamo fare un discorso un po' più filosofico, no? Se la vivi bene, se la prendi alla leggera e tutto quanto, se te svegli col sorriso, almeno ci provi, comunque è molto meglio rispetto a te svegli col broncio, no? Devo andare a lavorare, a fare queste cose e tutto quanto. È vero. Sorridi alla vita. Spesso è anche lo sport un po' che ti aiuta, no? A fare questo, perché mettendoti in moto, magari può essere un buon modo anche per scaricare le tensioni, un po' le varie cose durante... Si spanchi, moto, moto, eh? Incredibile, pazzesco l'italiano. Vabbè, io ho fatto una cosa sottile, tutto stasì. Ed è probabilmente positivo, cioè, per esempio, quando fai sport la mattina, molto presto, è vero che maledici il mondo perché ti sei svegliato molto presto per fare sport, però poi vivi la tua giornata con molta più carica, perché il tuo corpo si è già attivato. E quindi sei pieno di energie. È un controsenso incredibile dal mio punto di vista. Cioè, avrei probabilmente ancora più sonno. E invece no. Eh, ma perché non sei abituato. Se lo facessi sempre con regolarità, con costanza... Tu fai così? Si, posso assicurare... Sì, ma lo faccio anche, per esempio, a fine giornata, che arrivo stanchissimo. Magari vado a... No, alcune volte doppio, ma è difficile perché... Ok. Prima lo facevo. No, prima lo facevo, però mi allenavo così. E adesso un po' meno perché, insomma, non ho più né tanta testa, né tanta, insomma... Però quando arrivi, per esempio, a fine giornata, che sei stanchissimo, tu vai, non lo so, a correre, scarichi completamente, sia il cervello e tutto quanto, e poi arrivi a casa che stai rilassatissimo, non si sa come. È la fatica quella. È la magia dello sport. La magia del movimento fisico. È vero, è vero, è vero. Ti scarica completamente. Dato che hai detto del... Il segreto è nel fare qualcosa che ti piace, no? Mi è venuto in mente che scorsa settimana abbiamo avuto un fumettista straordinario che ci ha detto Io vivo in un mondo di persone che mi dicono Oddio, non vedo l'ora che venga venerdì. E quindi questo ti fa capire che il lavoro non gli piace e che dal suo punto di vista buttavano cinque giorni a settimana della loro vita in attesa dell'agoniato, no? Degli agognati due giorni dove potevano dedicarsi a fare quello che gli piaceva. A te mai capitata questa sensazione del Oh mio Dio, non vedo l'ora che venga venerdì? Anche sporadicamente, non è? Ma in realtà sì. Sì perché magari ecco quando... Cioè più che altro perché io il venerdì lo utilizzo come giorno per uscire con gli amici e tutto quanto. Quindi magari lavorando e allenandomi ogni giorno non ho mai magari il tempo di incontrarli o di... Certo magari uscire la sera per vederci un attimo sì però il venerdì è proprio il giorno, no? Perfetto per uscire perché poi il giorno dopo magari puoi fare tardi la sera puoi un attimo sbagarti a ballare, a uscire quindi sì, ma non perché non mi piacesse il mio lavoro ma solamente per un motivo di... Perché puoi fare una cosa in più Esatto, posso fare un qualcosa in più che comunque mi piace quindi... Certo, sì. Oh che bel mood. Vedi, vedi. Oh dobbiamo prendere tutti esempio da Tito, soprattutto te spanchi. Io già sono così, no? Io sono già super positiva. Tito dice io mi sveglio col sorriso, io entro in pre-live e vedo spanchi con sta faccia. Così, eh. Come va? Bene. Sì? Cioè nella casa... Ma poi ormai... Ormai parla col gatto, gli chiede... Che hai fatto cadere? Che hai fatto cadere al gatto? E aspetta che hai capito, una risposta seria. Miagola in tantissimi modi diversi questa razza. Cioè ti dice proprio l'oggetto specifico. Capisco in che stanza si trova, ecco. Tipo ti dice il DVD di The Wolf of Wall Street. No, no. C'è un miagolio specifico per quello. Povero gatto, povero gatto. Non ce l'ho tra l'altro quel DVD, se vuoi regalarmelo. Tito, Tito, c'è il tuo sogno da bambino, di quando eri molto molto piccolo, te lo ricordi? E se te lo ricordi è coincidente in parte o in tutto con quello che stai facendo nel settore in cui ti sei affermato? Mi. No, cioè mi. Allora, il mio sogno proprio assoluto era diventare un calciatore della Roma, professionista e tutto quanto. Però quelli sono i sogni, insomma, così. Però a me è sempre piaciuto recitare, sia dalle elementari quando facevamo le recite e tutto quanto, che poi avevo avuto la fortuna di avere una maestra che ci teneva molto al teatro e quindi mi ci ha fatto appassionare da piccolo. Poi, avendo iniziato a doppiaggio da piccolo, sono cresciuto, insomma, recitando, doppiando, stando in sala, che poi fino ai 17-18 anni per me è stato un gioco, è sempre stato un gioco. Poi, ovviamente, le cose a 18 anni si fanno un po' più serie, finisci il liceo, devi cominciare l'università, o forse no, insomma, chi la comincia, chi non la comincia, chi va a lavorare. E quindi si è fatta un po' più seria come situazione. Però, ecco, il mio sogno di assoluto sarebbe stato diventare un calciatore della Roma. Però fare recitare, fare l'attore, fare il doppiatore mi è sempre piaciuto, sempre piaciuto. Ok, e qui ti farei un'altra domanda. Potessi tornare... Quando il canale si chiamerà Spanchi Under The Hood, farei come ti va. Potessi tornare indietro, no? E ti dicono, ok, se diventerà un calciatore professionista nella Roma, una strada, certa. L'altra, invece, ti dicono, diventerai un'eccellenza assoluta nella recitazione del doppiaggio. Sinceramente cosa sceglieresti? Il sogno impossibile da bambino o la concretezza del presente? Eh, questa è tosta. Bella domanda. È tosta, eh. Mi troverei in difficoltà anche io a rispondere a una domanda del genere. Però è semplice curiosità. Il fatto è che se uno ci pensa, in questo momento io sto vivendo, cioè mi sono tolto delle bellissime soddisfazioni e tutto quanto. Ho vissuto davvero momenti bellissimi con questo lavoro e quindi ti direi, cioè non so, magari faccio il calciatore della Roma, a 19 anni mi spacco la gamba e finisce la mia carriera. Addio, certo. Quindi in questo momento ti direi questo, cioè il doppiatore, questa scelta artistica, l'attore, perché mi sto togliendo delle belle soddisfazioni e spero di toglierne ancora altre. Quindi, cioè nel senso, se hai la certezza di una cosa non ti butti sull'altra. Ok. Quindi penso questo. Chiaro, chiaro. Grazie. E prima di lasciare la parola ovviamente ai miei colleghi, sono curioso di una cosa. Felice, hai catturato la mia attenzione. Dimmi in chat per quale motivo, scusa sono arrabbiato perché mi hanno bannato a vita da Trapani Comics perché ho aggredito verbalmente uno degli ospiti. Sono da Dardaspo. No, ma chi ha aggredito verbalmente? Chi vuol dire hai aggredito verbalmente uno degli ospiti? Che ti ha fatto sto ospite? Si sarà messo in veicolo contro un ospite. Eh, ovviamente non si aggredisce verbalmente, ragazzi. Assolutamente. Però hai catturato la mia curiosità, quindi se hai voglia ti chiedere di scrivermi in chat così che Delfino… Eh sì, che l'hai insultato è chiaro quella attenzione verbale. Cioè che ti aveva fatto questa persona e perché tu sei arrivato… E chi era voglia. E chi era anche se secondo me perché sono curiosissima adesso. Speriamo no, Simone Bontanetti. Tanto ormai il DASPO te l'hanno dato, quindi nel senso… Va bene, va bene. Scusate ma la mia curiosità era troppo forte quando ho letto sto commento. Andrea, prego. Allora, allora, Tito, io vorrei chiederti, se tu dovessi scegliere un unico oggetto che però sia anche in grado di rappresentarti, quale sarebbe e perché? Allora… Questa domanda mi ha andato in crisi diverse persone. E ora rinchiangi la mia domanda sul video, vedi? Ah, se dicessi il martello sarebbe troppo semplice perché mi chiamo Martello, quindi non valgo. Allora, credo… Credo la scarpetta chiudata di atletica, che è una scarpetta con sotto i chiodi. Perché ogni volta che mi metto quella, che principalmente si mette per fare le gare, mi sento… ogni volta che la metto proprio delle emozioni sempre forti. Quindi io sono molto empatico, molto impulsivo, e quindi trovare quell'adrenalina, quelle sensazioni mi rende vivo. E quindi credo quello. Avrei voluto dire anche il microfono, perché il microfono mi viene del doppiaggio, però… Forse è più… forse è più la scarpetta di atletica. La scarpetta… eh, guarda, è… Molto particolare. Molto particolare. È una bella risposta perché il microfono, bene o male, anche se è bella, ce la saremmo un po' aspettata, no? Era la risposta un po' più immaginale. Sì, era la risposta da doppiatore, dai. È vero. Invece la scarpetta d'atletica è molto particolare, anche il motivo per cui l'associeresti. Sì. A me è piaciuta molto. Rientra insieme alla caffella sera, no? Gli uomini di sport, se ci fai caso Mauro, rispondono sempre con qualcosa di particolare inerente allo sport. C'è tipo Biggio, quando l'abbiamo incontrato nel backstage il primo maggio, a questa domanda ha risposto con… Il suono… La rete? Il suono della rete del basket. Perché ha detto che fa un suono molto particolare, no? Si, tipo così, ciuff. Dice il ciuff. Sì. Il ciuff. Un treno, praticamente. È particolarissimo. Sì, sì, è particolarissimo. Ed è figo perché effettivamente sono dei dettagli di uno sport che magari vedi, ma che non riesci a valorizzare. E invece chi fa quello sport riesce a fartelo vedere con un altro occhio. Molto particolare e molto interessante. Grazie. Grazie a te per la domanda. Vai spanchi. Sì, nel frattempo. Vai spanchi, stupiscimi. Stupiscici. No, perché… Bye man, che cosa… No, stavo leggendo di Felice perché, insomma, c'era un ospite che parlava, lo dico per tutti, che parlava… era… diceva di essere contro il bullismo, ma poi parlava bene di un manga che lo sannava. Non conosco chi è questo ospite, mi ha messo il nome. Mi informerò, sono curioso. C'è un manga che lo sanna il bullismo? E tu sei contro il bullismo? Wow. Ok, vado con la mia domanda. Ma no, io? Che cazzo c'entro io? No, ce l'ho con Felice. Ah, no, l'ospite. Ma no, ma scusa, ma è uno youtuber. L'ospite era contro… diceva di essere contro il bullismo. E lui ha insultato… Ha insultato… Sì, ma non perché era… ha insultato perché faceva… diceva, ok, non mi piace questa cosa, poi mi dice, mi piace questa cosa che però va in contrasto con quello che ha detto. Eh, e la mia domanda era, Felice, quindi tu sei contro il bullismo? Ma… o contro gli incoerenti. Eh, potrebbe essere contro gli incoerenti. Comunque, Spanky, ci aspettiamo grandi cose dalla tua domanda adesso, sa. Ma no, le mie sono assolutamente più leggere delle loro. No, volevo chiederti, dato che sei giovane, tante, e doppi da quando sei piccolino e ti sei fatto tutto il percorso scolastico da doppiatore, volevo chiederti quali sono le cose positive e negative di essere un doppiatore in giovane età e quindi a scuola. Che ne so, falsi amici, oppure il vocale alla ragazza che ti piace per conquistarla, cose di questo genere. Allora, forse le cose negative. Io tendenzialmente ho sempre provato a non dire che facevo il doppiatore, perché siccome non andavo benissimo a scuola, facevo un liceo classico piuttosto difficile, non andavo molto bene. Tutto quanto ho cercato di non dire mai, perché mi avevano detto di non dire che facevo il doppiatore, perché magari i professori si potevano un attimo arrabbiare nel caso in cui magari pensavano che non studiassi, perché andavo ai giorni di doppiaggio, quando non era così, anche perché i miei genitori mi hanno andato sempre messo al primo posto a scuola, poi lo sport e poi il doppiaggio, sempre. Però io non andavo bene comunque, quindi non lo potevo rullere. Non era colpa delle altre attività, certo. Però c'avevi la scusa pronta invece, era figo, cioè, così, se andavi male dicevi, eh cavolo, però ieri ho lavorato, cioè, c'avevi... Io l'avrei usata subito, sta cosa. Lo so, però non tutti i professori, ecco, ti possono, ti capiscono, no? Ti possono capire. E poi, invece, cosa positiva? Ma io penso che comunque, forse... la stima, magari, di alcuni compagni che lo sapevano, magari si guardavano quelle serie, dicono, oh cavolo, mi dici, mi spideri questo, mi dici questo, non lo posso fare, però magari, ecco, la stima, comunque, se erano che correvo, mi facevo... E mantenevano il segreto con i professori. Sì, sì, alcuni sì, altri magari gli scappava, però sai che a quel punto... Diciamo, la cosa perfetta sarebbe stata, se un professore si fosse vista una delle serie che doppiavo, e quindi dicevi, cavolo, perfetto, mi metto a dieci, però... Sarebbe stato fantastico. Sarebbe stato fantastico, però ecco... Avrei interrogato... Anche i genitori contenti. Ti avrebbe interrogato solo per dirti adesso e mi rispondi con la voce di... Esatto, beh, sarebbe stato molto bello. E se invece avessero detto, ti metto dieci, se mi dici cosa succede nel prossimo episodio? Oddio! Chi lo sa? Oddio, no, voi sapete che noi gli scappatori firmiamo... Dipende da quello che ha firmato, io non l'avremmo detto. Però, oddio, per un dieci... Questo è il bivio di Kit Tarrington, quando la stagione quella dove si vedeva che lui moriva, che è stato fermato prima dell'uscita della stagione successiva, e il poliziotto gli ha chiesto di... Guarda, non fa niente, te manno via, però dimmi se è ancora vivo. Il bivio è stato pure il tipo di quando non si sapeva chi saliva sul trono, alla fine. Sì, 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 sì. E molti mi chiedevano, oh, ma chi sale sul trono? Me lo dici? Ma ragazzi, non lo posso dire. Dai, ci sono le scommesse, possiamo vincere dei soldi. Ma ragazzi, non lo posso dire. Ci sono le scommesse. È stato molto, molto difficile. E le scommesse, pensa... Poi, sapete bene chi è salito sul trono, no? Sì. Penso che il business che c'è. Eh, ma ti rendi conto le scommesse? Pensa, usciva dal giornale, giovane doppiatore vince, insomma, milionaria. Sì, no, ma c'erano pure dei concorsi per vincere delle vacanze su Scuola Zoo. C'erano duemila cose. Infatti, tipo amici dell'asilo che mi scrivevano. Ciao ragazzi, tutto bene, sì. No, non posso dirvelo. Però, vabbè, ci sta, dai. Vedi? Ci sta, ci sta. Io pensavo, Spanchi, che ti giocassi la domanda del... Hai mai usato il tuo superpotere? Perché quella ormai è tua. Eh, più o meno. Vabbè, sì, più o meno. La rincerata. La rincerata. Vuoi che glielo chiedo specificatamente? Sì, sì, fammelo sentire, fammelo sentire. Hai mai conquistato una ragazza con un audio? No, una ragazza con un audio. La domanda era più... La domanda era, hai mai usato il tuo superpotere per finalità personali, che potrebbe essere conquistare una ragazza con un audio come, non so, non pagare un conto al ristorante, come... Certo. C'è qualsiasi altra cosa che ti possa venire in mente, con cui tu possa trarre vantaggio, ma con quell'ivantaggio carino, no? Questa è la versione elegante. Esatto, esatto. Comunque... Ovviamente, sì. Ovviamente, sì. Beh, no, no, a ristorante non mi è mai successa una cosa del genere, cioè, nel senso, magari, anche perché non sono uno che dice, oh, lo sa che ho doppiato... Lei non sa chi sono io, non lo dici. Lei non sa chi sono io. No, però, ecco, magari una volta era successo che un cameriere di Budapest... Oh, Budapest ce l'aveva spesso, però, eh. Esatto, perché poi torna tutto. E, tipo, aveva iniziato a parlare con noi e ci aveva, tipo, mi aveva chiesto cosa fate, eh? Eh, siamo tutti... Ah, ho visto il trono di spade, voi avete fatto tutto di spade? Sì, io ho fatto il trono di spade. Allora ci ha, tipo, offerto uno strano liquore, così... che tendenzialmente poteva costare molto, però l'abbiamo preso, l'abbiamo ringraziato. Però, ecco, magari più con le ragazze. Beh, beh, beh. Un approccio, ecco, io non approccio col messaggio, approccio con l'audio, se devo approcciare. Giusto. Utilizzo il mio strumento, cerco di utilizzarlo bene. È giusto. Cioè, c'è una Ferrari del genere, perché non usarla? Cioè, è importante. Comunque, oh, ammazza, te in vacanza, conversazioni fighe. Io mi sono ritrovato una volta a Istanbul, un cameriere mastolcherato, italiano, ah, de tu cose parlava, de Totti, e lì va bene, e de Rocco Siffredi. Mi sono ritrovato col cameriere Budapest, aveva una strana conversazione di circa un'ora su Rocco Siffredi. Beh, vabbè, ci sta. Ci sta, ci sta. E poi se c'è bene, è un po' strano, no? È cavolo. Nel stesso discorso, mette Totti e Rocco Siffredi, è un po' strano, anche per dinamiche. Io comunque non sarei stato in grado di reggere un'ora di discorso su Rocco Siffredi, quindi... Beh, un'ora su Rocco Siffredi probabilmente non l'avresti retta lo stesso, anche senza il discorso. Questo dobbiamo vedere, comunque. Eh, probabilmente sì, Rocco è troppo per te, Spanky. Va bene, ma no. Non lo voglio, comunque. Va bene, va bene. Un altro giro di domande nostre e poi passeremo, ovviamente, alla domanda dei social partners e dopo la chat vi ricordo di fare come state facendo, ossia evidenziate le vostre domande con i gigovat, che sono i punti canali, così che voi chiacchierate, io vado, scorro e pesco a caso solo dove vedo evidenziato, in questo bellissimo colore azzurro, tra l'altro, blu elettrico. Quindi... Blu avatar. Ebbè, blu avatar. No, non lo so. Però, è vero, è vero, ci sta. Ci sta. Ci sta, è blu, blu, blu navi potrebbe essere, infatti. Esatto. Non lo so, io non lo vedo, però. Aveva brutte intenzioni il cameriere, probabilmente sì. Ma io lo vedo viola, vabbè. Non è viola, non è azzurro. Io ce l'ho viola. Tu sei un po' dal tonico, eh. Io sono dipsomatrocrito, una cosa del genere. Mamma. Però, cazzo, il viola dal blu riconosco, in teoria. Andrea, tu lo vedi viola o lo vedi azzurro? No, io qua lo vedo viola twitch, però siccome puoi impostare i colori, magari l'hai messo blu. Vi vedo verdi, dice Will. Puoi impostarli i colori, quindi... Sì, vi vedo viola. Questa cosa mi ricorda, non so se avete visto una notte da leoni. Sì, sì. Il 2, dove loro devono staccare i cavi, cioè, ciao e quell'altro. Quello stacca filo, filo grigio, scuro, grigio, grigio, grigio chiaro. Era il 3 quello, quando stavano... Il 3, il 3. Era il 3, come no? Quando entrano nella villa. Quando stavano nella villa. Sì, sì. Vedo grigio chiaro, grigio chiaro, grigio scuro. È il 3, sì, è vero. Bellissimi, raga, che trilogia, no? Sì, mamma mia. Spettacolare. Bellissimo. Quindi, ricominciamo il giro al contrario, stavolta Spanky, prego. Va bene. Senti, io ti seguo su Instagram da un po' e vedo che viaggi molto. Allarme stalker. Allarme stalker. E quindi volevo chiederti di raccontarci se ti va a un'esperienza fatta in un viaggio, una cosa che ti è rimasta particolarmente... Oddio, che è successo? No, è cascato con scotch. Speriamo che gli rimanga qualcosa dall'ultimo viaggio che deve fare. No, questo non ne parliamo perché non si dice niente. Speriamo, speriamo, speriamo quello sì. Però è di quelli passati, quelli futuri. Allora, l'ultimo viaggio che ho fatto è stato... Credo... Allora, credo a Edimburgo, se non mi sbaglio. Sì, sì, vabbè, non in Italia, dico, eh. Sì, sì. Non in Italia. A Edimburgo, sì. E Edimburgo cosa mi è rimasto? Vabbè. I paesaggi, bellissimi. E poi, ecco, forse è proprio l'Eylander, che è tipo questa mucca tutta pelosa, tipica scozzese. Poi mi è rimasta questa immagine di questa muccola, che era troppo simpatica. E poi, ovviamente, io ci sono andato con una mia amica, che probabilmente conoscete, Vittoria Bartolomei. Sì, sì, la conosciamo. Mia sorella e il ragazzo. E, beh, insomma, il nostro rapporto, che ci troviamo molto bene, la vicinzia, passare, insomma, dei ben momenti insieme, ecco. Questo sicuramente è. Ok. Ma ti è mai capitato, invece, di fare un viaggio con le persone sbagliate, che ti hanno rovinato completamente l'esperienza? Il sorrisino di Lady Sida. Non può dirlo, forse. Sì, no, sì, 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 a volte sì, a volte sì, però, ecco, fa parte tutto, no? Fa parte del gioco, dell'esperienza e tutto quanto. Ok. Quindi, sì. Alcune volte sì, altre molto belle, invece. Soprattutto con il gruppo di matti, di cui faccio parte, dei miei amici, che i nostri ragazzi sono sempre molto... allo sfinimento, cioè torniamo più stanchi di prima. Invece con mia sorella sono molto più tranquille, molto più organizzate, chiediamo cosa fare, cosa vede invece noi partimo, vai e fammo. Però ci sta. Due tipi di vacanze, quello che in gergo si dice vacanza sfascio, cioè... Vacanza sfascio. Chi è che non ha mai fatto una vacanza sfascio in vita sua? Poi ci sono anche delle location ad hoc, tipo Ibiza, già sai che vai là... I Ibiza, per esempio, non ci sono mai andato. Ah, vedi. Però l'anno scorso con loro sono andato a Malia. Malia che è un... nessuno la conosce. Infatti io non la conosco. La sto sponsorizzando. La conoscete? No, cosa è in Malia? Si trova a Creta, vicino a Eraclion, che è la capitale. E praticamente è la città dei Balocchi. Nel senso c'è questa via enorme, piena di pub, discoteche, di tutto, di tutto. E sembra un po' il paradiso. Sembra un po' il paradiso. Ci sono molti inglesi, molti inglesi, e niente. Io ve la consiglio, poi, vedete voi. Malia. Siete giovani come me, siete giovani. Lo strumento della voce funziona anche poliglotta. Con le straniere? In altre lingue. No, perché uno dice, cavolo, è forte in Italia, però bisogna capire. Io devo dire, certe volte, poi sai, quando inizi a parlare, di tutto quanto con ragazzi, no? Comunque esce qua, alla fine che io faccio l'attore, l'doppiatore, mi dico, no, 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 cosa hai doppiato? Cosa hai doppiato? E gli dico, magari gli dico, Outer Banks. E loro dico, no, 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 non ci credo, no, non è vero, non è vero. Io ho la fortuna di avere un messaggio di Rudy Penkov. Ma dai, no. Quindi a volte gli dico, guardate, non ci credete, guardate. E loro impazziscono totalmente, perché Rudy Penkov è tipo un semidio per loro. Se non un dio. Senza semi. E quindi magari poi inizia la conversazione e tutto quanto. Però, sai, alla fine si dice, se gli piaci te, beh, quello è un punto, diciamo, a favore che magari ti può aiutare a dire più cose, a parlare di più argomenti, ecco. Aspetta. Se gli piaci, bene. Se non gli piaci, beh, ciao. Ma io sono curioso del messaggio. Cioè, tu hai questo messaggio e poi lo tiri fuori all'occorrenza. Ma, fighissimo. Tipo, jolly. Messaggio Rudy Penkov. Cioè, pure il messaggio di... Non mi chiedete perché ho tutti questi messaggi. Esatto. Non è solo per rimorchiare le ragazze. Ma, scusa, Tito, come funziona? Tu contatti l'attore e dici ciao? Tito, dovrei rimorchiare sta tipa, no? Mi può mandare un messaggio? No, no, non così. No, io, allora, agli attori che mi affeziono molto, di solito gli scrivo un bel messaggio e gli dico guardate, mi ha fatto molto piacere doppiarti, mi piacerebbe anche incontrarti in futuro, è stato molto, è stato molto bello, anche, come dire, una bella esperienza, un bel lavoro e tutto quanto. Mi piace scrivergli. Molte volte, ecco, per esempio, Rudy mi rispose. Brittain Dalton, che è l'attore di Avatar, mi ha risposto. Un altro ragazzo di una serie Netflix, Trails of Europa, penso l'abbiate vista, mi rispose e mi dice qui. Un altro dell'ultima serie che ho doppiato, che mi è piaciuto moltissimo, come ha recitato, che si chiama Midnight Club, mi ha scritto e mi ha pure riseguito. Quindi è molto bello anche vedere che loro tengono al doppiaggio di più di quanto, magari, molti ragazzi, non mi frega niente del doppiaggio, se lo guardano l'originale, però gli attori sanno quanto sia importante il doppiaggio e questa cosa me l'ha scritta Rudy Penkov, che mi ha detto grazie, per tutto quello che fai tu per lo show e grazie a te che questo può essere visto in Italia e in tutti gli altri paesi. E poi è stato molto bello quando lui ha vinto, sempre Rudy Penkov, ha vinto gli MT Awards per il miglior bacio con Chiara, con Madeline, no, vabbè non mi ricordo, Madison Beer, no, no, non lo so, vabbè l'attrice di Chiara, ha vinto questo premio e ha ringraziato, ha scritto grazie a tutti e grazie per il doppiaggio. Thank you for the doubt. Non ovviamente a me, l'ha messo in una storia, però è stato, io sono, è tipo rimasto, ma che cavolo, cioè lui ci tiene proprio molto al doppiaggio, infatti mi piacerebbe molto incontrarlo. Di tutti gli attori che ho doppiato, forse lui è quello più, che mi piacerebbe più incontrare. In assoluto. In assoluto, sì, sì, sembrava una persona deliziosa, poi non lo so. Ok, ma in chat c'è Demerlo che scrive proprio un messaggio specifico per te, se hai trovato qualche bionda a Eracleon. La mia mano di bionda, tutta inglese. E la risposta è sì. Sembrava una domanda mirata, però. Sì, sembrava, sembrava specifica. Allora no, Demerlo la conosco, si chiama Chiara, è una ragazza che saluto, saluto. Ciao Chiara, anche te vittima della voce di Tito? Cioè, sì o no? No, no, no. No, no, no. Adesso scrive in chat, oh, l'ha fatta anche con me sta cosa. Anche perché ormai gli ha svelato il trick. Anche a me, esatto, ormai, no, però, no, loro sanno che a me piacciono molto le bionde. Ok, quindi Demerlo mi dispiace, ma tu essendo mora non so. Eh, niente. Ma che ne sai? Ha scritto in chat. Ha scritto in chat adesso, spanchi. E' bello, ecco, leggo. Va bene, prima della domanda di Andrea, indovinate un po', sempre StreamYard mi fa quella cosa. Refresh, refresh. Ormai ogni 30 minuti faccio il refresh. Vabbè, sembra consigli per gli acquisti. Non è che uno dice... Oh, certo, certo che. Non mettevo in dubbio. Che vuoi spanchi? Che vuoi? Liente. No, discutiamo del colore dei capelli di Demerlo. Ah, ok. Cioè, tu non credi che... Grande memista, grande memista Demerlo, eh. Ragazzi, grande memista. Ah, grande memista. Eh no, fantastico. Fantastica. Cioè, noi adoriamo i meme. Dai, ti riesce fuori un paio su Tito. Vediamo che esce fuori. Della mucca. Della mucca pelosa. Della mucca pelosa sarebbe... Un nuovo content per il meme adesso. Sì, dai, mi aspetto grandi cose. Poi taggami che so curioso di vederle, ste cose. Comunque, Andrea. Sì, allora Tito, io non so quanto tu sia appassionato della saga di Harry Potter. Però la domanda che ti sto per fare è... Prende un oggetto nello specifico della saga. Ce l'ha con gli oggetti, eh. Ce l'ho con gli oggetti, è particolare. Perché che da morti? Fatti i cazzi tuoi. È lo specchio delle brame. Lo specchio delle brame, se non... Chi è il più bello del reame? Non era Biancaneve, infatti. No, lo specchio delle brame ti mostra praticamente la cosa che brami di più. Quindi quella che desideri di più al mondo. Infatti a Harry mostrava i genitori, a Ron la coppa del Quidditch. Ecco, se tu ti trovassi oggi davanti a quello specchio, che cosa vedresti? Qual è la cosa che brami di più? Non rispondo una bionda perché... Un esercito di bionde. Un esercito di bionde. Una bionda. Ma di birre, giusto? La bionda è la birra. Allora, due bionde. Esatto, esatto, esatto. No, allora, allora, non ci penso bene. Comunque una bionda è una risposta, cioè, non è... E' valida. No, ma io infatti non ho... No, no, vabbè. Ho giudicato, cioè. Una bionda con gli occhi azzuri. No. No, è una bella domanda. Punto da un po' per rispondere. Quello che vuoi. Puoi pensarci. La bionda poteva andar bene, cioè, nel senso, ognuno vede poi quello che... La bionda con gli occhi azzurri, poi era un upgrade della risposta precedente, andava ancora meglio. Adesso o dici la pace nel mondo, oppure rimaniamo molto... Esatto. No, credo... Cioè, se dico la felicità è troppo scontato. Cioè, nel senso, deve essere più... Cioè, una cosa... Certo, la felicità perenne, nel senso, chi non la vorrebbe, no? Certo. Ma penso sì, qui c'è la felicità, la salute, una bella famiglia, che ci sia sempre. Ok. Quindi possiamo dire, tipo, una tavolata felice, con te, la tua famiglia, i tuoi amici, le persone più care. La tua bionda. Beh, la tua famiglia è composta da una bionda. Io infatti stavo dicendo che comunque la bionda non è che ti renda infelice, quindi in realtà la prima risposta torna, perché ti dà la felicità la bionda. Certo. No, ecco, magari essere circondato da persone che... Bionde. Che ti vogliono bene. Bionde che ti vogliono bene. Ma va bene anche il biondo ossigenato? Cioè, oppure deve essere biondo ossigenato o bionda naturale? Bionda naturale, no. Ah, ok, quindi il biondo tinto. Il man è sempre che vuole trovare i sotterfuggi, i taroccate. Guarda, biondo platino è il pazzisco, per esempio. Eh, ma cavolo, non tinto biondo platino, dove lo trovo io. Biondo naturale e biondo platino, è possibile. Beh, le svedesi. Scandinavia, scandinavia. Eh, cavolo, ma biondo platino? Devi essere proprio nordica nordica. Io non l'ho mai visto, penso, un biondo platino naturale. Beh, te lo auguriamo noi. Ormai l'ha visto davanti allo specchio e le brame, quindi ormai è augurato e basta. Esatto. Bene, bene. Ma, attenzione, perché c'è De Merlo che dice che ha una pagina doc per i meme su Tito. Bene, non lo sapevo, l'andrà a controllare fin dalla live. Ci ha spoilerato il prossimo meme, tra l'altro. L'andrà a controllare, eh? Sono curiosissimo. Il prossimo video è in spezia per trovare il meme. Sì, molti di quei meme sono, insomma, sul gruppo che ho sul Telegram, di solito escono delle belle perle, si hanno inchiamate, così mi lasciano tutto quanto, è veramente interessante. Magari non li capite, ecco. Però altri sono molto, molto carini. Va bene. Devo dire che ci sa fare la ragazza. Ci sa fare. Eh, però sei mora. Questo fardello tu dovrai portare via. Però sei mora. E soprattutto sei minorenne, quindi. Eh, cavolo. E questo mi sembra fondamentale. Questo mi sembra fondamentale. Purtroppo ha 24 anni frappolo, quindi. Eh, cioè, no. Pensa, spanchi a tre volte i tuoi anni. Eh sì. Ma è vero, sei buffone. Tre volte i tuoi anni per gamba. Ma bene lo stesso. Attenzione, questa è una dichiarazione. Però spanchi non è bionda, Tito. Spanchi è... Che capelli c'hai? Ma spanchi è... È tipo la penna multicolore. Che capelli c'è, tutto cambia colore. Questo è vero. È vero, oggi è violenza. Allora fatti bionda platino. Non ci penserò, Tito. Va bene. Ti farò sapere. Stasera già se fa la tinta, io te lo dico. Perché... L'acqua ossigenata così. Se fa la tinta. Prima della fine della live è biondo platino. Esatto. Esatto. Spanchi bella 72enne, dice Marstrux. È vero. È vero. Io sono il punchable di tutti. Il punchable? No, noi ti adoriamo, spanchi. Che poi non si dice così. Eh, punchable lo dici te. Eh no, è punch. Punch. Sì. Punch boh. Vabbè. Punch boh. Che cos'è? Come si dice? Non lo so, non lo so. Sei tu il poliglotta. Io? È Lorna che ha detto sta cosa. Eh, pace all'anima. Allora. Bobosk44 ti saluta, Tito. E dice un saluto a tutti dal tuo modera beluga. Che vuol dire? Che cosa è un modera beluga? Allora. Ciao Keigo. Keigo e nea ne teiam fallocco. Allora. Ha parlato elfico. Ok. Parlo. Ci fia a paupo. No, scherzo. Allora. Allora, no. Nel mio gruppo di Telegram ci stanno anche dei moderatori. Ok. E questo ragazzo è un moderatore. Modera beluga perché è nato tutto da un TikTok che ho fatto su un pov che non era un pov, cioè nel senso un pov ironico. Ok. E c'era questa ragazzina che dovevo, cioè c'ero io che dovevo scegliere se salvare questa ragazzina dello Sri Lanka o un beluga e ho salvato il beluga. Poi la bambina di questa ragazzina dello Sri Lanka si mangiava le scatolette del beluga. Allora, da lì De Merlo ha avuto tre milioni di meme e cose. Allora, questo ragazzo si è addirittura tatuato un beluga con scritto O El Gati Camille, che vuol dire, in Navi vuol dire io ti vedo. E quindi da lì tutti l'ho chiamato, allora senti, diciamo, modera beluga perché dopo questa... Aspetta, ma davvero te sei tatuato il beluga? Certo, che racconti? C'è la scritta in Navi. La scritta in Navi? Cioè tu sei un pazzo. Cioè l'hai fatto con l'ennè? L'hai fatto con il vera? In realtà non penso, non penso, perché comunque gli fa lui stesso i disegni, quindi non penso questo. Oh, moderatori, vedete che qua c'è un moderatore che ci tiene talmente tanto a Tito che si è fatto un tatuaggio ad hoc per lui. Io adesso mi aspetto, e tu ti vuoi tre Jackie Jack e Fanpage. Cosa possono fare per te? Soprattutto te Fanpage, che sei la mia Fanpage, quindi dovresti adorarmi. Faccia del mezzo sul culo, si tatano. Bello, bello. No dai, faccia del mezzo sul culo no, però è un bel tatuaggio, come quello che vi pare, però che riguarda il canale. Io me l'aspetto dopo sta cosa, prendete tutti esempio da Modera Beluga, che si è fatto sto tatuaggio e non lo vorrei. Se vuoi dire tutto il nome, che è il governo di Taglian Fallocco. Ah bravo, fai gli dei nomi, vai vai, ridillo. Che sbagliate quelli italiani, vai vai. Io, per me sarei sempre Modera Beluga, quindi non ti chiederò mai col tuo nome. A posto. Lo potranno anche dire altre 700 volte, tu sarai per sempre Modera Beluga, sappio. Ma io adesso che sono uscite delle parole in Navi, mi viene in mente una domanda da farti. Cioè ma dopo, a parte Bro, che è quello è... A parte Bro, a parte Bro. Quello è, ok. Perfetto. Ma quante richieste di audio dove ti chiedevano delle cose specifiche in Navi hai ricevuto dopo Avatar? Ho capito perché è un traduttore. Pochissime. Ah, in Navi ho accoggiato Andrea. Ah, pochissime. Pensavo, no perché c'è stato un caso, per esempio tipo ad Amico, mi ricordo che una live si lamentò, questa cosa che continuavo a chiedere tipo, ma come si dice, che so, oggi sono andato a posto in Navi. E che è un dizionario, infatti è un dizionario, cioè... No, per fortuna, per fortuna a me, no, sai forse perché, perché Domitilla comunque ha fatto molte più frasi in Navi rispetto a me, molte più frasi, cioè nel primo film c'è mia madre che parla praticamente solo in Navi in alcuni pezzi, quindi probabilmente per quello, poi non lo so, le richieste, a me non me l'hanno, difficile che me lo chiedano, anche perché poi non lo so la lingua, quindi nel senso, posso inventarmi qualcosa, ma non lo so, sinceramente. No, no, ok, perché c'è sta sta cosa, c'è stava sto, sto trend, chiamiamolo così, di chiedere robe assurde in Navi, sì. Ora, da domani mi iniziano a chiedere tutti i audio in Navi. Immagino. È fantastico. Vediamo, no. Fanpage scrive che si tatuerà il mio viso da qualche parte, bene, ti aspetto, guarda, ti aspetta il barco, pure te Jack che hai scritto dai andiamo, vi aspetto, Modera Beluga l'ha fatto, voglio vedere se voi siete... Osseranno tipo il tatuaggio degli Avengers. Qua nasce la competizione. No, vi potete fare la maschera della casa di carta. Ma che schifo, che cazzo c'entra con me la casa di carta, scusa. Beh, perché tu sei stato doppiato con la maschera. Alessandro Guarda, no, io voglio proprio la mia faccia, cioè lui c'ha un beluga. No, non me la sento. No, 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 dai, dai, facciamola sta cosa. La casa di Pamemmo. Bello. Di Pamemmo. Scusate, dopo questa... Comunque è vero, perché Scetti, questo è stato doppiato da Alessandro Quarta, penso di essere stato l'unico italiano. C'è una clip tra l'altro che è testimone. No, vabbè, felice. Anche io mi tatuerò il volto del man e siccome lo stimo gli chiederò dove vuole che non me lo faccia. Guarda, dove vuoi, dove vuoi. Cioè, è impazzisco sta cosa. Io vedo un mio tatuaggio con la mia faccia, è impazzisco. Eh, sì, anche io. Spanchi tu. Spanchi tu dove te lo fai il tatuaggio? No, io non me lo fai, io impazzisco. Scrivono, ma puoi mettere spanchi tutte le sere e guarda lo specchio la faccia del man prima che vado a dormire. Eh, cavolo, cavolo. Eh, certo. No, no. Vabbè, ma lo fa già? Ha una tua foto tipo Santino sul comodino? Ma assolutamente no, 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 no. Forse volevi dire il formato tessera sulla bambolina voodoo? No, 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 il Santino proprio. Attenzione. Breghi il man. Felice scrive, me lo farò sulla spalla sinistra perché sulla destra è il tatuaggio di Goku. Cioè, Goku da una parte e il man dall'altra. Veramente... Incredibile. La combo di... La roba forte. Incredibile, incredibile. Stupendo, ragazzi. Stupendo. Mamma mia. Sun, man under the hood. Hai piantato, ragazzi. No, però sì, sarebbe bello anche. Va bene, dai, torniamo seri dopo a sto momento un po' aiutare che ci sta. Andrea, domanda ai social partner? Se no mi dici prima di passare la chat, c'è la domanda dei social partner. Sì, sì, la dico, la vuoi far dire a spanchi? Perché? Posso andare? Decidi te se farla dire a spanchi o la dico. Vai, spanchi, dilla tu che sei tornata oggi, sei fresca. Vai, vai, dilla, dilla. Allora, prima di tutto ho fatto un già spanchi, quindi non è vero che sono là. Allora, Tito, roba da doppiatori ti chiede, potendo riniziare da capo la tua carriera, cambieresti qualcosa o rifaresti tutto esattamente come hai fatto? Mi rifarei tutto esattamente come ho fatto, credo. Bene. Non ho riempianti, quindi penso che sì, penso che sì. Bello. Perfetto. Perfetto. Hai di stare rapida in dolore, Mauro. Adesso puoi mettere quella sigla improponibile. La metterò, la metterò. Puoi mettere alle domande della chat e fai il man super saiyan. Mi dovete dire, quando venite a Trapani così vi invito la mia pizzeria, ma volentierissimo, Felice, guarda, la prima cosa che farò... A tutti, ci inviti a tutti. Strana artistica. Quando venremo a Trapani, te lo diremo così mangeremo più che volentieri la tua pizzeria, anche perché, insomma, immagino che la pizza sarà buonissima. Sulla fiducia. A me non mi invita. Non ti invita no, non ti fa il tatuaggio del man. Tutto il gruppo, ma una sera sola all'anno, va bene. Va bene, abbiamo il bonus che una sera all'anno, volendo, quando andremo a Trapani, Saremo da felice. Senza spanchi. Eh no, ha detto tutto. Ha detto tutto il gruppo, da anche spanchi. Magari gli serve qualcuno che lava i piatti dopo, che ne so. Ah, giusto. Non lo troverà a me. È una cosa importante. Ci può stare. Passiamo alle domande della chat. Metterò una sigla bellissima, Tito, che abbiamo solo noi, fatta ad hoc, musica testa. Ci sarà un motivo se ce l'abbiamo solo noi. Balla, Andrea. Hai, Andrea. Eh, è figa, Tito, dire la verità, ti ha messo allegria. Mi è piaciuta molto. No, devo dire, sì, sì. Bellissimo. La metti un'altra volta. No. No. L'hai chiesto che faccio. Andrea la sta cantando mentalmente. Bene. Vedi che adesso è tutto un altro clima, è incredibile. È vero. Tito, ma splendi? Ma chi è? Splendo sempre. Da snippet? Cosa è snippet? Chi è snippet? Splendo sempre. Snippet è un altro admin del mio gruppo. Ah. E questo è admin. E perché, e perché, e perché, e perché De Merlo parla a nome di snippet? Non ho capito sta cosa. Ah, De Mer, perché, no, perché anche De Merlo è praticamente un admin. Ah, ok. È del mio gruppo. Ah, ok. Che è anche mimista. Anche mimista. No, infatti non capivo perché ha scritto, Tito, ma splendi, punto interrogativo, da snippet. Però l'ha scritto De Merlo, quindi non capivo. È un portavozio, hai capito? Esatto. Sì, perché poi ci stanno comunicando. Ah, ok, ok. Vabbè, io so boomer su ste cose, raga, quindi non ne capisco. Voi ragazzi splendete? Splendete? Sempre, sempre. Mi chiedo di quello che ha detto Spanky, quindi sì. No, un'altra volta. Basta non fa come Icaro, poi. Allora, Tom, prima domanda fatta in assoluto, sto nell'ombra, vedi, snippet. Comunque, Tom mi dice, se era il man, Andrea a Lucio, perché Luciano, Spanky è diventata Luciano questa sera, e a Tito, chiedo della meravigliosa lavorazione su Ian Sheldon. Quindi, questa è la domanda. Ah, che bello. Posso rispondere? Come no, come no. Sì, certo. Ah, no, allora, no, perché molte volte, cioè, quasi nessuno mi chiede di questa serie, ma secondo me è una delle serie più belle che io faccio, perché quando doppio Giorgi, tra l'altro, stiamo arrivati alla settima o alla sesta stagione, la stiamo doppiando, bellissima. Non so se voi la vedete, comunque c'è un sacco di nuove cose, tanti casini, insomma. Però, ecco, quando doppio Giorgi sarà anche la direttrice che io apprezzo e ammiro molto, sarà tutto, insomma, il clima che si viene a creare, ma io adoro, cioè, vado, già ci vado col sorriso, ci vado con... che mi arriva fino a qua. Ah, perché a parte mi diverto, a parte Giorgi è un personaggio bellissimo, ma proprio il tutto è davvero straordinario, quindi mi piace tantissimo questa serie, tanto, tanto, tanto. E poi, come magari sono cresciuto con Il Trono di Spade, o con The Walking Dead, o con Modern Family, questa è un'altra serie che sta continuando, con cui sto continuando a crescere. Che magari è iniziato a 16 anni, o 17 anni, o 18 anni, non mi ricordo. E siamo ancora, siamo arrivati alla sesta, settima stagione e ci sta ancora, forse considerare, che mi rende molto felice, davvero tanto. Perché poi più passa il tempo e più ti ci affezioni. È vero. A me è piaciuto molto Big Band Theory, quindi poi ho iniziato anche a guardare Ian Sheldon e... Carina, carina, ti dà quella, no? Quella... Sì, quella tranquillità, quella spensieratezza. Sì, sì, no? Molto, molto carino. Poi c'è una, insomma, una comedy americana, ci sta, ci sta. Marstrux. Se ti piace Big Band Theory, credo anche quella, insomma, non ti dispiace. Marstrux scrive Giorgi che corre felice su un prato, ma è una vecchia canzone. No, no, non è quello, non è quello, non è quello, però... Io mi l'ho fatto ridere parecchio, sta cosa. Buonasera a me, Andrea Spanchi, buonasera a Tito, al quale vorrei chiedere, tra tutti i ruoli a cui dato la voce, quale senti più simile a te stesso a livello caratteriale? JJ. JJ, perché anche l'OH, anche l'OH sotto alcuni punti di vista, ma JJ sotto alcuni punti di vista proprio interiori mi riassomiglia molto, è molto imprevedibile, impulsivo, intraprendente, empatico, e come ho detto prima io, ci rientro proprio appena in questi aggettivi, e quindi penso a JJ. Diciamo che i personaggi un po' a ribelli mi riescono molto bene perché mi raffigurano molto, cioè prendono molto della mia figura, ecco, quindi credo lui, credo lui. credo JJ Maybank. Va bene, origami all'alba, ciao a tutti, che bello avere Tito ospite sul canale. Vorrei chiedergli se può raccontarci della sua esperienza in Avatar 2. Bellissima esperienza, diciamo che è stata forse la lavorazione più importante che l'abbia mai fatto, a livello di tocchiaggio. è stata un'esperienza magnifica, un team incredibile, un team importante, e ho imparato molto e devo tanto a loro. È stato un doppiaggio diverso, un doppiaggio dove non si andava, non c'era la fretta, non c'era, c'era molta tranquillità, molto, certo, molte aspettative perché comunque si parlava di Avatar, però, diciamo, il direttore, l'assistente, il quale hanno messo, hanno creato quel clima di pace, di tranquillità, proprio come alla fine è Avatar, cioè nel senso tu vai al cinema, ti metti sulla coltrona, ti metti gli occhialini e vivi, e ti immergi in questa esperienza. E per me è stata un'esperienza davvero fantastica, davvero fantastica. Ok, ma ti posso fare una domanda su questo tipo di lavorazione? Sì, Avatar è stato un prodotto molto, in realtà molto bello, ma anche molto chiacchierato, no? Nel senso ci sono stati ovviamente pareri positivi, pareri negativi. Tu come reagisci ai pareri negativi, cioè nel senso non a livello di doppiaggio, a livello, perché ho visto alcuni tuoi colleghi, non farò nomi ma non dirò neanche i film e tutto, che quando dici, quando qualcuno critica il film, se la prendono sul personale, no? Perché dici, eh, un po' tipo mezzi stizziti. Quando in realtà però non si va a criticare il doppiaggio, che il doppiaggio è sempre comunque quando fatto a livello professionale un'eccellenza, perché in Italia il doppiaggio è sempre veramente fatto al top, a prescindere dal film. Però la senti come... la critica al film tu la senti a livello personale oppure no? La critica al film no. Ok. Assolutamente. Nel senso, poi ognuno, penso, la bellezza dell'essere umano è che ognuno ha un'opinione diversa, perché se avessimo tutti la stessa opinione saremmo dei robot, ecco, ci sarebbe l'intelligenza artificiale e va. Ecco. Quindi è pure bello sapere, oh, a me Avatar non mi è piaciuto. Ok, va bene. Però siete stati bravissimi. Grazie. Io penso che chiunque abbia visto Avatar non può disprezzare il doppiaggio che c'è stato, perché è stato davvero... Poi, per quanto mi riguarda, poi magari Spanky mi dice, no, a me mi ha fatto schifo, non lo so. No, bellissimo. Però io penso che sia difficile criticare il doppiaggio. Poi il film magari mi dice, guarda, a me la trama, non c'è trama, non mi è piaciuto e vado. Ok, va bene. Però voi siete stati bravissimi. Non ho ricevuto critiche sul doppiaggio. Sì, sì. Mi dà, ecco, per quanto invece riguarda... A me mi dà un po' fastidio quando, per esempio, dicono, ah, però guardare le serie in originale è molto più bello. E allora gli dico, ma l'hai vista in italiano? No, 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 non mi interessa il doppiaggio italiano. E là, sì, ecco, la prendo un po' più sul personale. Ma perché prima di giudicare, almeno prova, prova, ascolta. Certo. Ma certo. Quindi questo. Sì, sì, no, su quello mi trovi d'accordo. Mi trovi d'accordo. Cioè, una critica sul film? No. Cioè, nel senso, magari ci sono affezionato, non la prendo sul personale. Magari ci manco un po' male, però dico, va bene, lo accetto, è una tua opinione, è assolutamente nessun problema. Anche perché poi i film, cioè il giudizio sui film, piuttosto che sulle serie, dipende anche molto dal tipo di pubblico, no? Ma certo. È ovvio che se tu prendi Avatar 2, in cui c'è stato già un primo film, quindi ha già un suo pubblico, ha già un suo seguito. Cameron stesso, come regista, ha già dei suoi fan, no? Che qualunque cosa faccia è comunque bella perché è fatta da lui. Quindi è ovvio che è già un prodotto con un target molto preciso. Beh, che una persona fuori da quel target ha il suo giudizio. Io mi ritrovo in un esempio che hai fatto. Cioè a me, per esempio, questo secondo capitolo non ha fatto impazzire, per diverse ragioni, ma ho trovato comunque un altissimo livello di doppiaggio. Che comunque non è, secondo me, non era facile, secondo me. No, certo. Sì, sì, no, no, certo, ma io nel senso, ora dico, no, ora non sei più un mio amico perché... Blocca, blocca Andrea. Io rispetto assolutamente questo giudizio, nel senso, può piacere o non può piacere. Cioè è come chi si guarda magari il Trono di Spade e magari gli fa vedere Big Bang Tiori e gli dice, ma che sta cagata. Oppure chi gli fa vedere Big Bang Tiori e gli fa vedere il Trono di Spade, che sono due serie completamente diverse, beh, ma che è questa cosa. Quindi non è un problema. Ok, ok, grazie, era più una curiosità perché ho visto invece alcuni tuoi colleghi che la prendono proprio veramente molto sul personale. Ma ci può anche stare, cioè nel senso, magari, un film a cui sei particolarmente legato per vari motivi, Certo, certo, magari. Leggi una critica, ti può dar fastidio, però secondo me è comunque da apprezzare quando qualcuno ti dice, guarda, a me il film ha fatto schifo per questo motivo, Però mi sei piaciuto tanto te in quanto doppiatore o comunque tutto il cast delle voci che ci ha lavorato, no? Perché comunque... Sì, sì, ma a me può, mi può pure dire, no, guarda, non mi sei piaciuto come doppiatore, io dico, va bene, rispetto la tua opinione, Dimmi magari il perché o cerchiamo un attimo di parlarne, tutto quanto. Chiaro, chiaro, chiaro. Rispetto la tua opinione, anche se non ci capisci un cazzo. No, quello secondo me è la base, quello secondo me è la base, cioè se io voglio criticare un doppiatore e non conosco il doppiaggio, non so niente del doppiaggio, È un po' una critica che lascia il tempo che trovo, cioè è la critica della domenica. Molto spesso invece leggi degli articoli che sono molto diretti e mirati su particolari cose, E poi leggendo capisci che c'è veramente poca conoscenza di quell'ambito che invece viene criticato. Questo è un peccato, perché spesso magari è capitato in alcune pellicole che invece si è stato detto, Ah, il doppiaggio italiano ha rovinato sta pellicola, soprattutto a noi poi è capitato di vedere quella pellicola, Perché ci abbiamo fatto uno speciale sopra, e il problema era tutto, veramente il problema era tutto, Tranne che il doppiaggio, che ha cercato di dar un po' di corpo, un po' di anima a un film, Wonder Woman 1984, che non ce l'ha. Posso dirti una cosa? Posso dirti una cosa? A te è piaciuto. Il bello... No, no, no. No, no, no. Non è importante. Il bello è il brutto del doppiaggio. Il doppiaggio è molto soggettivo. Cioè magari ci sta una voce che ti piace al massimo, e che magari non piace a dieci persone, E magari ci sta una voce che non piace a nessuno, e che a te piace. Quindi è molto, molto, molto soggettivo. Ma lo vedo io che magari dico, non lo so, c'è questo doppiatore che piace a tutti, ma a me non mi fa impazzire. E... True story? No, 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 non facciamo noi assolutamente. Adesso. Però, però, ecco, il bello e il brutto del doppiaggio è che è molto soggettivo. Per esempio, l'atletica, no? Se tu sei forte, se tu sei forte... E poi il cronometro. Eh. Cioè il cronometro è una cosa soggettiva. Il doppiaggio non è così. Il doppiaggio è soggettivo. Cioè nel senso, piace, non piace. L'atletica fa il tempo, o vai ai mondiali perché hai fatto quel tempo. È oggettivo che sei forte. Invece per alcuni il doppiaggio può essere forte, per altri non può essere forte. E questo è il caso. Vedi, poi in privato ci dici quella cosa non ci può dire. Non penso che ci lo dirà, sai. Sì, dai, dai, in codice qualcosa ci fa capire. Dai, per noi in privato. In navi. In navi e vai a cercare parole. Allora, vado avanti con le domande. Com'è stato lavorare in Modern Family? Best serie forever and ever, per me. È stato bellissimo. Bellissimo ed è una serie che mi rimarrà per sempre nel cuore. Anche perché purtroppo il direttore è andato da un po' di tempo, un po' di tempo fa. Quindi, cioè, resterà per sempre dentro i miei. Avevamo un rapporto tutti quanti speciale, unico. Quindi non se ne andrà mai via quella serie. Mai, mai, mai. Per sempre dentro i miei. Ok, che bel ricordo. Mr. Lannister, buonasera, il grandissimo man, ai ragazzi, al nostro... Mr. Lannister, meglio Mr. Stark. Eh, invece Mr. Lannister, al quale vorrei chiedere se può... Dopo questo commento voglio vedere se è ancora il nostro gradito ospite da parte di Mr. Lannister. Comunque, al quale vorrei chiedere se può raccontarci della sua esperienza di doppiaggio nel Trono di Spade, dove ha doppiato Bran Stark. L'ho detto bene Bran o Bran? È Bran, Bran perché è Brandon. Non dovevi chiederlo, me. Tanto io sbaglio sempre. Perché è Brandon Stark, il corvo con creotti, il brand spezzato. E come è stata? Allora, allora, doppiare Bran non è stato per nulla facile. Perché? Vi spiego. Nella sua apaticità, lui era diventato il corvo... Nella seconda o terza stagione diventa il corvo con tre occhi, per esempio. Quindi diventa completamente monotone. Queste stesse intenzioni, stessa faccia, stesse emissioni, tutto uguale. Però ecco, nella sua monotonia, nella sua semplicità, era difficile dargli i giusti colori. Difficile dargli la giusta... Quella apatia. Spaccettata. Sì, era complicato. E là mi ha aiutato molto il direttore, che era Sandra Cerco. E niente, quindi questo poi, che boh di caffà. Lo facciamo lo sto spoiler, ma penso di dire ormai sono passati anni. Eh sì. Per l'ultima stagione, mancano i genitori, ho potuto dire che alla fine saliva lui sul trono. Manca loro. E poi è andata tutta quella cosa. Noi, dimmi, dimmi, dimmi. Poi quando hanno scoperto loro che ero io, ma li morta. Ma ce lo potevi dire. Eh raga, non potevo, mi dispiace. Quindi, quindi questo. Quindi comunque anche bellissime spiegazioni. Ma poi sai, anche The Walking Dead, che l'abbiamo citata, è una di quelle... Sono quelle serie con cui tu... Io sono cresciuto. Io sono cresciuto insieme agli attori. Sono serie che ho doppiato per dieci, undici anni. E quindi, per forza di cose, rimando dentro di me. Perché sono proprio la tua infanzia. Certo. Cazzo di idee. Vabbè, poi anche là, parlando di meme, no? Cioè, hai doppiato un personaggio che è stato a base meme... Mamma mia. ...per anni. Ma pure... Pure Carl di The Walking Dead, non so se lo conoscete. Sì, sì. Sì, dicevo di Carl. Ah, pensavo di Bran, no? Perché pure Bran... Sì, anche lui. Però Carl è stato proprio... Penso una delle basi più usate, almeno per un paio d'anni. Cioè, è stato... Sì, sì, sì. Assolutamente. Assolutamente. Povero Carl. Povero Carl. E se ci pensi, se ci pensi... Carl, sei tu che rispondi, non vi posso di niente, alle persone che ti chiedono chi salirà sul trono. In quella base meme, no? Dove c'è lui con la faccia... Ah, sì, esatto. ...che guarda il vuoto... E di là con la disperazione, tipo... Quando c'è Rick che fa le sue cose. Altra base meme. Per esempio, quando... Oddio, non so se ve lo ricordate. In The Walking Dead, quando c'era tipo... Non mi ricordo come si chiamava. C'era quel matto con la mazza che faceva tipo la conta. Ah, Negan. Negan, sì. Negan, che faceva la conta e doveva ammazzare qualcuno. Sì, sì. E là pure il super hype, eh, chi ammazza, chi non ammazza e tutto qua. Ci hanno finito una puntata. L'unico personaggio ben strutturato hanno finito. Ci hanno finito una puntata con lui che ha scelto chi uccidere, boom, puntata che finisce. Ma come? Che cazzo? Che emozioni quelle stagioni poi, però... Sì, posso dire, posso dire... Altro spoiler. Dopo la morte di Carl è un po' andata... È un po' finita. Dai. È stata proprio la morte di Carl a San Cile questo passaggio. Esatto, basta. No, anche un po' prima. Anche un po' prima. Anche un po' prima. Sì, no, le prime stagioni sono fantastiche. Sì. Sono spettacolari. Poi va un po'... Purtroppo è sempre così quando allunghi il brodo. Sai chi fa Negan? Sì, lo so, il comico. Il comico. Sì, infatti c'è il nostro amatissimo. Il comico di Watchmen. Sì, sì, sì. Sì, sì, sì. Lui difficilmente ha sbagliato prodotti su cui lavorare comunque. Sì, ne ha presi pochi ma selezionati rispetto alla massa, dico. Ha fatto rire qualche film romanticone, vabbè, però c'è stata. Scusami, è il padre dei Winchester. Sì, mi fa piacere. L'avresti ripetuto fino a quando... Tu non mi avessi detto sì. Ok. Mr. Lannister mi scrive, man, per te lo chiamerò anche Bren, d'ora in avanti. Bren. Bren. Bren, allora, in inglese, so, so. Beh, se vi stava bene, è Bren Stark. Cioè, senti. Bren, bello. Come Tony. Tony. Tony Stark. Allora, io pesco una domanda a caso, quindi chi ha fatto più domande... A caso. Willow scrive, buonasera almeno ai nostri streamers e a Tito. Vorrei chiedere al nostro ospite come ha vissuto l'esperienza di doppiaggio del personaggio di Benjamin Button a sei anni, che, come ricordiamo, aveva il viso da anziano. Grazie di essere con noi stasera. Allora... Ah, cioè, a leggio quando ha visto il vecchio, ho capito. Sì, come l'ha vissuto. Come l'ha vissuto. Allora, no, io non ho doppiato il vecchio. Io ho doppiato... La versione a sei anni. La versione a sei anni. Insomma. Vai, come viene. Invece adesso il cervello c'è... Ci frega un po', ci frega un po', purtroppo. Ma per tutte le cose, non solo per il lavoro. Allora, io vado avanti. Salto un po' di domande, tipo i post. Sì, ma... Ah, felice. Tito, personaggio film o serie tv che hai odiato doppiare o che hai amato doppiare ma di cui si parla poco? Allora... E adesso avrai... Odiato. Cioè, ho odiato doppiare... Non lo so. Cioè, ho odiato non... Cioè, non... Sai, si dice che è molto... Cioè, un doppiatore bravo si riconosce quando fa i personaggi che non gli piacciono. Perché deve tirare quella parte di sé, deve esternare, no? Con la voce quella parte che non... Di solito non è, diciamo... Non è di tutti i giorni, no? Non è la sua parte di tutti i giorni. Però che ho odiato... Sinceramente non ce n'è uno che ho odiato. Forse quelle serie coreane che non hanno senso, che ora ne stanno uscendo molte. Beh, sul ruolo dell'entrata. Siccome l'ho odiato, magari, siccome l'ho odiato, manco me lo ricordo, perché non mi interessa, capito? Che poi è un dramma. Perché tu fai conto, magari ti affezioni a un personaggio. Per esempio, con Manuel Meli, qualche settimana fa, appunto, era nato sto disco... Il brosy. Era nato sto ragionamento. Ovvero, magari ti affezioni a un personaggio, è temore. O magari non ha un grande sviluppo nella sé. Poi becchi quello che ti sta antipatico. E magari invece dura per una serie di 18 stagioni, tutte le stagioni. Cioè, dura proprio fino alla fine. Quindi te lo porti dietro. E io penso che è arrivato a un certo punto, anche se ti sta sulle palle, però per 18 anni te lo sei portato dietro. Quindi, un po' di simpatia, no? Magari ti esce fuori comunque. Sì. Sinceramente non lo so. Cioè, che ho odiato, magari qualcuno l'ho odiato, ma non me lo ricordo proprio. Cioè, nel senso, forse è bello anche per questo. Cioè, nel senso che non me lo ricordo. E invece... Questa qua è una bella domanda. Ci devo pensare a quella là che è un personaggio che, secondo me, dovrebbe avere un po' più importanza. Ma sai, secondo me è George di Young Sheldon. Perché ci tengo davvero tanto a quel personaggio. Non so perché, per tutto quanto, quello che vi ho detto prima. Però penso lui. Cioè, nel senso, Young Sheldon è una serie vista, ma non così vista. Magari non come, ecco, come Big Bang Theory. Secondo me non quanto merita. Ecco, per esempio, in America ha fatto il boom totale. Oppure, sai, un personaggio che mi piace molto è di una serie Mediaset che si chiama Duncanville. Che è stata dei produttori, insomma, creata dai produttori dei Simpsons. E in Italia non ha fatto per nulla successo. Mentre in America ha avuto un successo stratosferico. Perché, a mio parere, era molto molto carina. E Duncan era un personaggio che mi piaceva molto. Forse... Duncanville. Ok. Poi ci sono quelle serie che in America esplodono e qui no. Però questo dipende molto proprio dal pubblico. Cioè, spesso il prodotto... Tipo i Simpson, tipo i Griffin, tipo American Dead. Per dire, proprio tre prodotti similari ma diversi. Funzionano in America perché proprio prendono di mira qualcosa che sta accadendo in America in quel momento. Esatto. Quello è vero. È vero, è vero. Non sempre in italiano è facile risistemare le cose. E magari in alcuni casi l'adattamento è meno brillante a livello proprio di resa della battuta rispetto che altri. Però... È vero, è vero. Sono completamente d'accordo su questo. Allora, vado avanti. Ignardi, abbiamo già parlato di Avatar, quindi niente. Luciano scrive, io e Tito abbiamo la stessa maglia. Cioè, tu mi hai evidenziato sta cosa, Luciano. Seppure del team dovresti sapere che le evidenziature stanno solo per le domande. Niente, Luciano ci teneva affatto e sapete Tito che... Sì, sì. Lui ha quella maglia di panting. Lo so, lo so. Purtroppo lui non è biondo, eh. Quindi puoi trattarlo male. Però abbiamo uno sticker con la parrucca bionda. Abbiamo uno sticker con la parrucca bionda. È vero. Quindi qua... Potrebbe cambiare tutto. Plot twist. Plot twist. Sto andando avanti, eh, perché insomma vorrei fare una domanda. Che è indietro. Ragazzi, allora Twitch mi è sceso, quindi va bene, passiamo alle ultime. Scusate. Sì, vabbè. Luca, buonasera Man, buonasera Andre, buonasera Spanky, buonasera Tito, benvenuto sul canale. E complimenti per la tua carriera. Nonostante la giovanità ti faccio grandissimi complimenti per Loc... Loc o Loc? I nomi, bravi. No. Raga, per favore non mi fate dei nomi, perché lo sapete che poi mi mettete in difficoltà. Col personaggio di... Ti faccio grandissimi complimenti per il tuo personaggio in Avatar 2. Cioè, poi lo fanno apposta, mettono sti nomi strani, adesso, cioè, andiamoci chiaro. Adesso, Loak, Loak, ok, però quando mi mettono tipo il nome coreano o giapponese di quell'anime, è impossibile. È, giapponese è difficile. Comunque va bene, per Loak in Avatar 2. Sono curioso di sapere... Grazie, grazie mille. Come pensi possa tornare nel 3? E su Carla, anche se a fine stagione, prima che morisse, era diventato insopportabile. Complimenti a parte, ti piace... Quindi le domande sono due. Che commento. Come pensi possa tornare nel 3? Sicuramente vivo. E se ti piacerebbe doppiare un supereroe villain della Marvel o della DC? Allora, Loak come tornerà in Avatar 3? E sappiamo, è già stato annunciato, che sarà il narratore del terzo film. Quindi sarà... Ecco... Parlerai un sacco! Parlerò molto e sarà molto impegnativo, ma sarà una bellissima sfida. Sarà una bellissima sfida personale, quindi vedremo. E tornerà, come secondo me, a livello caratteriale, diciamo, cresciuto dal punto di vista sia caratteriale che psicologico. Perché, insomma, senza fare spoiler e tutto quanto, ne ha vissute davvero tante nel secondo film, secondo me. Fumaturo, quindi. Esatto, sì. Secondo me sì. E forse dargli, ecco, dargli un peso così importante da James Cameron. James Cameron gli dà questo peso anche, secondo me, per questa cosa. Cioè, nel senso, per far vedere, per mostrare che è nata una figura matura e competente quanto James. Quindi, insomma, penso, poi non lo so. E... Carl, insopportabile, mi dispiace. E per quanto riguarda... Qual è l'altra domanda? Se ti piacerebbe fare... Essere un supereroe o villain, Marvel, o dissi. Sì, alcuni dicevano... Molti ragazzi mi hanno detto che... Rudy Penko, l'attore di JJ, di Outer Banks, potrebbe fare... E... Il supereroe... Ah, ma aspetta, ma è nella card di Rumor dei Fantastici Quattro? Sì, però non mi ricordo come si chiama. Non mi ricordo se è la Torcia Umana o la cosa. Torcia Umana, Torcia Umana. Per forza, la Torcia Umana. Dicono, dicono questa cosa, è scoppiato. Sperando che me lo facciano doppiare a me, ecco, sì. Sì, ecco, forse ti rispondo così. Mi piacerebbe doppiare una... Se qualsiasi attore io abbia doppiato nel corso degli anni a cui sono affezionato, mi piacerebbe doppiarlo, ecco, come supereroe, questo sì, assolutamente. Poi è indifferente, in realtà, quale supereroe sia, però mi piacerebbe, ecco, continuare in questo percorso che c'è stato. Per esempio, c'è Andrea Ricks, l'ho doppiato ovunque, l'attore di Carl, di The Walking Dead. L'ho doppiato in qualsiasi serie, film, che ha fatto da quando è piccolo. Quindi, ecco, è questo. Ok, ci dicono che è Paul Mescal che può fare la Torcia Umana, quello più gettonato di recente. Vedremo. Ah, sì, però leggevo i rumor anche su... Lui, vediamo che succede. Young Snippet dice, chi è il tuo admin preferito e perché proprio io? Eh, qua parte la gelosia, il tuo admin preferito. Quanti admin hai innanzitutto? Numeriamoli. Oh, allora, Keigo, salutiamo ovviamente tutti. Keigo, Alessia. Chiamiamolo col suo vero nome, dai. Eh no, Keigo. No, l'altro. Alessia. Alessia, eh? Snippet. No, io li conosco così, non so. Ah, lui sei nickname, cioè non è che... Sì, loro... A parte Alessia, che credo sia il suo vero nome, cioè non credo che sia il nickname. Sì, però scusami, Modera Beluga lo devi chiamare così, cioè non esiste. Ma Modera Beluga la chiamo Modera Beluga. Esatto, quindi Modera Beluga e poi gli altri, cioè il suo nickname... No, in realtà Snippet è Modera Toro. Modera Toro. Non è moderatore, è Modera Toro. E poi c'è Chiara, che è Demerlo. E Alessia. E basta. Poi ce ne sono altri che sono scomparsi. E tra questi... Chi è il tuo preferito? Occhio perché qui si creano Civil War, eh? Occhio. Il mio preferito... Sono tutti loro. Eh, bravo. Sono tutti loro. Eh, bravo. Questa è una risposta troppo diplomatica. Non ci può essere. Sorgono. Il mio preferito è lui. Anzi lei, nei chiri, vedete. Va bene. Poi ti dicono paraculo. Che caro paraculo. Bravo dito. Domani il man troverà nuovi soprannomi anche a noi. Allora, no. Allora, voglio dire una cosa. Voglio dire una cosa. Keiko, Alessia e Chiara mi hanno incontrato a varie cose, varie cose che ho fatte e tutto quanto. Sniffet è l'unico che non è mai venuto pur essendo, pur trovandosi vicino a Roma. Ah, quindi è l'ultimo. Questo gli fa perdere dei punti. In graduatoria è l'ultimo. Quindi ci puoi dire quale non è il tuo preferito. Esatto. Esatto, lui. Eh, però, splende. Quindi, quindi non va bene. Quindi non va bene. Ehm, ok. Va bene. Anch'io ho incontrato il man e stavo per abbenarlo con la corsa. Acqua frizzante, maledetto. Io c'ho i mod che mi fanno gli attentati invece, te rendi conto? Ehm, va bene, va bene. Comunque, qualora non foste soddisfatti della risposta di Tito, sappiate che noi potremmo darvi un'opportunità come moderatori di Twitch solamente se mi fate prima vedere il tatuaggio con la mia faccia. Quindi, prima di fare l'application mi fate vedere. Beh, mi sembra un requisito indispensabile. Beh, perché se, scusami, se se lo sono fatti per lui e vogliono venire a fare un'esperienza di un paio di mesi a moderare Twitch sul mio canale, devo per forza fare il tatuaggio con la mia faccia, giusto Spanchi? No, ho capito, ho capito, ho capito. Sì, perché questa era la domanda sui mod che ti ha messo un po' a difficoltà, diciamolo. Davvero, lo ammetto. Esatto. Dai, ma potete, ne ha presi pochi, ma ha selezionato il man, come se frase storica non la metterò mai questa, sappiatelo. Mai nella vita. Domanda di Andrea, Andrea Crea25. Buonasera Tim e buonasera Tito, volevo chiederti come è stata l'esperienza di doppiaggio su questi due prodotti. Sean Murphy da piccolo in The Good Doctor e Duke Shelby in Peaky Blinders. Ecco un altro personaggio, vedi, certe volte mi dimentico, un altro personaggio che secondo me dovrebbe avere più importanza, Duke. Duke è stato bello, difficile, perché lui in originale, pur essendo molto più piccolo di me, ha una voce profondissima, molto dark, molto scura. e io non... invece la mia voce è più tendente allo squillante, più... più solare, insomma, diciamo così. E quindi ho dovuto dare tutto quello che lui aveva tramite la sua voce oscura, tramite quelle intenzioni, l'ho dato con le intenzioni. ed è stato difficile, ecco, trovare la giusta chiave, però il direttore Lorenzo De Angelis è stato molto bravo in questo. Mi è stato... mi è dato una grande mano e pur non avendo fatto tanto, quel personaggio mi è rimasto tantissimo, anche perché Beauty Blinders è una delle mie serie preferite in assoluto, quindi nel momento in cui mi hanno chiamato ero tipo al settimo giallo, potete immaginare. Invece, per quanto riguarda... per quanto riguarda... aspetta, mi sono scordato? Ian Doctor, com'era? Ian... ah, Good Doctor! The Good Doctor, che ora non mi ricordo... non mi ricordo come si chiama l'attore, che ho anche doppiato, quest'attore l'ho doppiato in Stargirl, che è un film su Disney Class, non so se l'avete visto. E... è stata particolare... non me lo ricordo benissimo, sinceramente. È stato particolare perché comunque dovevi renderlo credibile, nonostante, insomma, le intonazioni particolari che aveva questo personaggio. Che richiedeva. E non è mai... esatto, quindi non è mai semplice fare una cosa del genere. Quindi, ecco, questo sì, questo è stato... è stato un anno dalla sfida, ecco, questo sicuramente. Ok, ok. Anche se non appena non ho fatto tanto in... in quella parte, insomma. Sto morendo in diretta adesso con la tosse, io sono super... Beh, è contenuto, eh. È contenuto. Aspetta. Aspetta che avviso qualcuno. Si avvisa, chiama qualcuno che sta morendo... vabbè, comunque fa tanto. Oh, che hai capito, per vedere... Tu non vedi l'ora che muoia, spanchi, lascia perdere, mi ha inviato le peggioiettature. Per un periodo sono andate anche a buon fine. Non è vero. Meno male che c'è stato Luciano. Bobosk dice, eh, io il timbro da modera beluga non mollo tito, ma mica dovete molla tito, e cioè, venite pure qua a lavorare, fate due timbri. Anche perché il corpo è grande, ci sono varie parti del corpo, potete benissimo avere vari timbri, e quindi... però i nostri moderatori sono forti, eh, quindi dovete assolutamente mettervi in paro. Voi con loro e loro con voi. Perché da domani Jack, Jackie e Fanpage, se non vedo il tatuaggio siete fuori, eh. Tito mi ha detto tranquillamente, mi ha detto, mi ha fatto capire prima, guarda, il tatuaggio è una cosa seria, cioè, o ve lo fate o non ve lo fate. È certo, è fondamentale. È un elemento che non si può... Giusto, giusto. Imprescindibile. A proposito di Carl, com'è stato essere per nove stagioni il figlio di Gian Sante? Di Cristian Gian Sante, salutiamo, ciao Cristian. Beh, Cristian mi chiama suo figlio, perché ho doppiato in varie serie i suoi figli, e quindi mio figlio, mio figlio, mio figlio. No, è stato molto bello, cioè, molto... è stato figo. E poi con Cristian un bel rapporto, quindi... Quindi è venuto tutto molto più semplice, insomma. È stato bello, dai. Ok. Ma... Luca scrive, tatuaggio del man, meglio il tatuaggio leopardato sul sedere di Eleanor? Elettra Lamborghini. Eh, intenditore. Beh, scegli tu, scegli tu. Oh, Tito, che vuoi dire? Che vuoi dire? Cioè, non vuoi mettere... No, no, vabbè, nel senso... Oh, Elettra Lamborghini non è bionda? Ti faccio notare sta cosa. No, infatti, però... Però fa Lamborghini. Va bene. Allora, io, raga, leggo l'ultima domanda, poi facciamo quella cosa e chiediamo a Tito se vorrà farla, e poi andiamo in chiesura. Non ti preoccupare, non è niente di... Metto giusto il pathos. Ti chiederemo di parlare in Navi. Sì, esatto. Ah, no, no. Chiederemo un saluto. Beh, intanto voi non mi capite, quindi posso dire quello che voglio. Esatto, un saluto per il canale in Navi. Pensa che figata sarebbe. Comunque, ti chiedono, a proposito di Hogwarts... Ah, questa è una domanda in tre, però. Va bene, dai, facciamo questo. Ah, voletti. Allora, casa di Hogwarts, sempre se ti piace Harry Potter, serie preferite non doppiate, e se ti piacerebbe che uno degli attori che doppi interpreti un signore del tempo in Doctor Who? Ammazza, molto specifica. Sì, molto, molto... Allora, l'ultima rispondo con un netto sì. E... Niente, esattamente ciò che mi scopri il testo. Allora, l'ultima un netto sì. Le serie preferite, però non doppiate da te. Ah, ok. Breaking Bad? Grande. Breaking Bad oppure Narcos, ma Narcos... C'è storia. Insomma, era... No, sì, c'è storia, però era tutto in spagnolo, praticamente, Narcos, quindi in senso... Io sono il Poblio Emilio Escobar Gapiglia. La prima... Ragazzi, purtroppo vi devo dare questa... Questa coltellata. Io non sono un fan di Harry Potter, però mi è sempre piaciuto... Cioè, le ho viste, però non sono un fan accanito. Mi è sempre piaciuta la casata di Serteterga. Però non sono un fan accanito. Quindi spereresti di doppiare un personaggio rilevante di Serpeverde nella serie tv? Eh, sì. Non mi dispiacerebbe, ecco. Assolutamente... Magari biondo. Magari biondo platino. Biondo platino. Ma davvero The Good Doctor è presa una serie coreana, Marstrux? Non lo sapevo. Forte. No, queste sono le curiosità che escono. Ammazza. Oh, ma c'hai dei mod veramente venali, eh? Preparatissimi. Quanto mi pagate? Quanto mi date? Oh. No, non fate... Beh, io li pago 500 euro al mese, eh. Io voglio vedere, voglio vedere, adesso ti chiedo le prove di estratto conta. Ha ricevuto del bonifico che fa ogni mese 500 euro a ognuno di loro, che ha detto che non so appogli. No, vi ripaghiamo in tanto amore da parte nostra, insomma. Da parte di Spanky, che è la persona più anziana e quindi quella con... Ma io sono anche la più fredda e gelida, quindi... In natura, da parte di Spanky o di Luciano? Dovete scegliere il vostro player. In natura nel senso che gli colgo dei fiorellini. Certo. Esatto, esatto. Gli fai cogliere il tuo fiorellino, Spanky. Questo è il pagamento in natura. No, no. Sì, ha detto di sì. Quello sei tu che fai l'esclusiva. Oh, non la voglio, questa l'esclusiva. Grazie, Spanky, l'avete sentita? Oh, l'avete sentita tutti? Clippate in sto momento. Clippate in sto momento. Ha detto no, quello sei tu che hai l'esclusiva. Io non lo voglio cogliere, questo fiore, Spanky. No, raga, oh, in chat l'avete sentita tutti. Ormai è troppo tardi. L'avete sentita tutti, eh. No, qui sei tu che c'hai l'esclusiva. Tito l'ha sentita? A dare il tuo fiorellino. No, quello l'ha aggiunto. E posso confermare, mi dispiace, Spanky. Mi dispiace, Spanky. Fate la clip, mettetela ovunque, taggatemi. Vabbè, chi mi conosce sa. Se uno di voi condivide sta clip cento volte, io faccio cento storie di ricondivisione con sta clip. Nessuno la condividerà perché tutti riconoscono il santo. Mi raccomando, mi raccomando, non mi deludete. Bellissima. Spanky, finalmente l'ha messo, però sono contento di questa cosa. Beh, sì. Dopo, dopo. Ma c'era un po' della tensione sessuale. Ma dove? Ma dove sta questa tensione? È bene che dopo 236 episodi, insomma, sei venuto a galla. Da parte sua sicuramente, da parte sua. Draco Malfoy. Tito che doppia Draco Malfoy. Sì, beh, intendevo. Magari doppia da Fraveglioni. No, al massimo il figlio. I migliori moderatori, devo dire. Il man ci roba tanto, tantissimo. A me paga Beluga. Ammazza. Ecco, prendi nota. In scatolette di Beluga. Chi viene in Sardegna affrata a bere a tutti. Dai, andiamo a bere in Sardegna. Guarda le clip, sono già uscite. Dichiarazioni di Spanky al Mien. Bellissimo. Al Mien. Al Mien. Bellissimo. Spanky puoi dire quello che ti pare, io sono contento. Dopo che hai detto che io sono le patatine fritte perché non ne puoi fare a meno, adesso hai detto che il tuo fiorellino, insomma, aspetti me. Vabbè. Prima di te viene da rite pure attento. Va bene. Allora, stoppa le domande. Noi andiamo in chiusura. Tito, noi chiudiamo le nostre live con chi ovviamente lo vuole fare. Quindi senti il libro di non me va. Con un video saluto al canale. Perché questi video saluti, a noi al canale, a chi ci segue, perché questi video saluti andranno a formare una sigla. Adesso usiamo la quinta sigla con cui iniziamo le nostre live. Cioè noi in quel quarto d'ora dove lanciamo la diretta ma poi effettivamente entriamo in mezzo per non farli stare davanti, per non far stare i nostri spetti davanti a un'immagine fissa con una musichetta abbiamo fatto questo montaggio di clip che serve anche un po' per ricordare la live, non nascono meme, cose carine. Quindi se ti va di farlo ti registriamo e ti inseriamo anche a te. Se no, no. Sì, sì. Nessun problema. No, nessun problema. Bene, bene. Allora, io passo alla schermata registrazione. Oh no, adesso descriverà tutto quello che fa. Passo alla schermata registrazione. Metto Tito in grande. Tito è l'età eh, è l'età, non ti preoccupare. Aspetta anche se. Esatto. Anzi, prima faccio un ultimo F5 così sono sicuro che Tito sta perfettamente insieme. Spanky, la menta te con streamer, mandagli una mail o se la menta lei. Guarda, è una cosa incredibile sta Spanky. Qualcuno vuole fare anche lo streamer del canale? Facciamo fare Spanky? Tu. Eccomi. Quindi, Tito lo metto grande adesso. Guarda come è migliorata la scena adesso. Wow! Il mio egocentrismo dice sì. Vero, vero. Bello vedere Tito in grande, vengo io. Allora, Spanky ho detto se qualcuno vuole fare lo streamer al posto tu e Demerlo si è proposta. Fantastico, scrivimi in privato che ti do tutte le indicazioni. Splendente. Allora, adesso dirò 3, 2, 1, 5 secondi di silenzio. Quando vuoi parti e poi quando ti vedo in silenzio 2, 3 secondi rientriamo. 3, 2, 1, riderà Siri, vai. Ciao a tutti i ragazzi di Man Under The Hood. A rifamo. Niente, non lo farò mai, vai. Ciao a tutti i ragazzi di Man Under The Hood. Ricordate, negare, negare, negare. E come si dice in spagnolo, bon voyage. Bellissima. Dai, è figo anche l'inizio. C'è da tagliare il primo pezzo. Ma quasi quasi la teniamo così. La teniamo così, la teniamo anche. Oppure il primo pezzo lo mettiamo nei bloopers. Cioè, come... Faremo una sigla solo di bloopers. Una sigla solo di bloopers. Ce ne sono di bloopers che potremmo fare. Per fare una sigla forse ce la possiamo fare. Un filmatino di 2-3 minuti di bloopers esce fuori. Splendido, splendente. Una scintilla, sto male. Teniamo così. Bello, grande titolo. Le papere del canale. Tra titoli e ferri. È vero, anche Francesco Ferri. Ottimo materiale per i bloopers. Tutto per il meme. Speriamo di rivederti presto su questi lì. Di Man Under The Bloopers. Facciamo il TikTok, semmai il paperissima sprint di Man Under The Hood. È figo, figo. Ma tanto Tito ci bloccherà tutti quando uscirà. Sì, non credo che lo rivedremo su questo canale, perché uscire a cui fa blocca... Ma solamente perché non siate biondi, perché sennò... Io sono biondo. Cioè, Tinto è biondo. Ah, è vero, è vero, è vero. Sì, lui, vedi, c'ha il ciuffo... Io c'ho il ciuffo biondo, però poi sono tipo biondo cenere. È tipo malgi. No. È tipo malgi, è tipo malgi. Te prego. No, tutto, ma no. Io la parrucca bionda, bene, bene. Allora, andiamo in chiusura. Ringraziamo tutti voi che ci avete seguito, insomma, fino a questa sera. Chi all'inizio, chi dopo, chi si è connesso. Però chi si è connesso all'inizio e alla fine ha un saluto speciale. È un grande abbraccio da parte nostra. Un... Che veri dite? Che state a dire? Mi è stata rovinata la chiusura, queste risate. Vai! Io adesso non la faccio più. Eh, vabbè, vabbè. Ovviamente ringraziamo i nostri mod per l'ottimo lavoro svolto. Ringraziamo anche i mod di Tito, che presto diventeranno anche i miei mod previa foto del tatuaggio. Tatuaggio. Ringraziamo i miei streamer di questa sera, Andrea Spanchi. E... Prego. Vedi che... Anche se non sono interessato a cogliere il tuo fiore, sappi che sei un valido membro di questa team. No, sei... E invece il grazie più grande va a Tito. Tito, grazie mille, ci siamo divertiti tanto. Grazie a voi. Moltissimo. Grazie mille per questa serata. Grazie mille e... Dai, eh. Grazie davvero. Dai, e speriamo che non ci bloccherà tutti. Ce lo prometti qua che non ci blocchi. Sì, va bene. Va bene. Io domani vedo... Se vedo ancora il tuo profilo, faccio il controllo. Se vedo niente, vuol dire mi ha bloccato. Esatto. Non gli puoi manco scrivere se vedi niente. Gli puoi manco scrivere. Vi mando il curriculum. Mandaci sto curriculum. Dai, dai. Lo aspetto, eh. Prima però la foto del tatuaggio, ricordati. Buonanotte a tutti. Ciao, ci vediamo domani. Ciao, ciao.